Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo tornando a parlare della vicenda dell'ottantenne Alessandro Sacchi che lo scorso 21 giugno ha ucciso la moglie malata con un colpo di pistola. Oggi il suo arrivo alla casa di riposo Fossombroni, la casa Pia di Arezzo e quindi di fatto la sua scarcerazione, è stato infatti trasferito lì dal carcere di Arezzo, vivrà in un appartamento senza ovviamente avere la possibilità di uscire una misura cautelare per la quale i legali dell'ottantenne si erano spesi fin dai primi momenti del suo arresto, sostenendo le condizioni di fragilità appunto dell'ottantenne. 18 misure cautelari, sequestro di beni per oltre 132 milioni di euro e 57 indagati, i numeri sono quelli dell'ultima operazione condotta a Roma dalla direzione investigativa antimafia, un'attività che ha avuto ripercussione in tutto il territorio nazionale e anche nell'Aretino. Tra coloro che sono finiti in manette c'è infatti un cinquantenne residente da tempo ad Arezzo. Secondo le accuse ipotizzate dalla procura romana, le indagini avrebbero portato all'identificazione di due associazioni radicate nella capitale, specializzate in estorsioni, usura, fittizia, intestazioni di beni, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego in attività economiche di proventi illeciti. Un incidente in autosole è successo nel pomeriggio di oggi in un weekend da Bollino Rosso. Nel secondo weekend da Bollino Rosso per gli spostamenti dovuti alle vacanze estive è ancora una volta la 1 il teatro di un grave incidente stradale. È accaduto intorno alle 17 nel tratto Aretino in direzione sud al chilometro 362. Si è trattato dello scontro tra un'auto della polizia penitenziaria e un camion, quattro i feriti sul posto, la misericordia di Monte San Zavino, la croce bianca di Arezzo, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Un uomo di 56 anni è stato trasportato in codice rosso alle scotte di Siena. Gli altri tre feriti, tutti uomini, sono stati trasportati al pronto soccorso della fratta di Cortona. Hanno riportato ferite più lievi. Importanti le ripercussioni sul traffico. Tutto il mese di luglio, specialmente al ridosso dei weekend, sarà da Bollino Rosso con milioni di italiani e stranieri che si muoveranno per raggiungere le principali località di villeggiatura. L'ultimo fine settimana di luglio in particolare sarà quello più critico. Una vera e propria task force di soccorsi, quella che si è spesa questa mattina per trarre in salvo un uomo di 57 anni che si era ferito durante un'escursione in mountain bike. Secondo quanto appreso, la chiamata alla centrale operativa dell'emergenza urgenza di Arezzo è arrivata intorno alle 9.30 e appunto riferiva del ferimento di una persona caduta da bicicletta in un ambiente impervio, mentre percorreva un sentiero in località Prato, La Penna, nel comune di Prato Vecchio, Stia, in Alto Casentino. Sul posto, un'ambulanza infermierizzata di Stia, i vigili del fuoco, l'elicottero Drago, il soccorso Alpino. Il ciclista, dopo essere stato recuperato, è stato trasportato dall'elisoccorso Pegaso in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Ponte Anniccheri. E dunque una cadena dei soccorsi, come abbiamo visto, che ha funzionato alla perfezione, ma ovviamente tutto questo non va dato per scontato. E c'è proprio questo tra gli scopi della neonata Fondazione Emergenza Urgenza. C'erano tutte le sigle dell'emergenza e del soccorso sanitario a Roma, nella sede dell'Aula Caduti di Nassiria, presso il Senato della Repubblica, per la nascita della Fondazione Emergenza Urgenza. Tra i soci fondatori, il direttore del pronto soccorso di Arezzo. Qual è l'obiettivo di questa fondazione? L'obiettivo di questa fondazione è quello di essere un qualcosa che colleziona tutta la parte dell'emergenza urgenza, non soltanto tutte le società scientifiche, anche tutti gli stakeholders, quindi l'associazione del volontariato, il soccorso alpino, l'elisoccorso, tutti insieme per avere un unico obiettivo, che è un obiettivo scientifico, organizzativo, di promozione della cultura, di organizzazione di congressi, e non ultimo di importanza, direi anche un rapporto con la politica molto importante, e il fatto che ci sia stata questa presentazione al Senato, credo sia già un buon inizio, perché la medicina d'urgenza era un momento di difficoltà e noi bisogna trovare questo accordo con la politica, questa unione con la politica per risolvere questo problema, il prima possibile, prima che il sistema imploda. Quindi insomma, ecco, uno degli obiettivi è anche questo qui. Una fondazione nata per dare forza e continuità a quel bisogno di fare squadra tra le realtà del soccorso. Primo obiettivo, far capire alla politica e alle istituzioni che in Italia manca il personale sanitario per il settore dell'emergenza urgenza. Ecco, tra le difficoltà, la mancanza di personale è il primo e al primo posto? Direi al primo posto, non c'è ombra di dubbio. Questo lavoro non è più appetibile per nessuno, ci sono sempre meno specializzanti che aderiscano alle scuole, vasi pensare l'80% dei posti disponibili dati dallo Stato per le borse di studio va vuoto. E quindi questo è un'evidenza chiara che le istituzioni devono capire, bisogna trovare delle soluzioni che facciano un modo tale che questo lavoro è un lavoro bellissimo. Non lo dico perché l'ho fatto per tutta la vita, ma è un lavoro bellissimo, però nei giovani deve essere valorizzato non solo economicamente, ma anche con uno stile di vita che sia uno stile di vita migliore. Per esempio, avere uno stipendio maggiore rispetto a altre specialità non è così banale, poi non siamo certo noi a deciderlo, però io faccio sempre un esempio, fare una notte in pronto soccorso non è una guardia, come si può fare da un'altra parte, ma è un giorno come se fosse giorno, dalle 8 alle 20 o dalle 20 alle 8, non cambia di una virgola. E quindi questo è già un messaggio da far capire. E proprio per tutelare ancora di più la nostra salute, in questo caso quella dei più piccoli, è stata fatta un'importante donazione alla Croce Bianca di Arezzo. Il servizio. Una nuova ambulanza per la città di Arezzo, a donarla alla Croce Bianca alla Fondazione Graziella Angelo Gori Ollus. Grazie a tutti. Nella mission della Fondazione Angelo Gori Graziella sicuramente ci sono tutti quelli che sono le caratteristiche o comunque sia i presupposti per fare delle attività di questo genere. È una collaborazione quella con la Croce Bianca che oramai va avanti da circa una decina d'anni, quando già nel 2016 avevamo deciso di fare la prima denunzione. Forti di questa bella esperienza abbiamo deciso assolutamente di rinnovare e eccoci qua, quindi anche oggi a inaugurare questo bel momento. Si tratta di un'ambulanza speciale con unità pediatrica, con attrezzature e arredi pensati anche per le esigenze dei più piccoli. Si tratta di un mezzo che è allestito su uno chassis Ducato ed è allestito per poter sostenere tutte le attrezzature sanitarie che oggi sono all'avanguardia, le più moderne per quanto riguarda l'intervento in emergenza-urgenza e come ha detto lei soprattutto per l'unità pediatrica. Togliendo la barella e mettendo la culla pediatrica, che è in dotazione in pediatria, che ce la dà in dotazione, basta inserire, se togli quella si mette la pediatrica. C'è gli attacchi per le prese sia della corrente che dell'ossigeno che è pronta per fare trasferimenti con il rianimatore della neonatologia, insomma per andare al maier, ecco, poche parole. AISA Impianti ha depositato presso la regione toscana la documentazione per ottenere il power, il provvedimento, cioè per mantenere acceso anche l'impianto denominato L45, dove L45 sta ovviamente per tonnellate. Si tratta della vecchia linea autorizzata proprio appunto per 45.000 tonnellate all'anno per il trattamento dei rifiuti solidi urbani che viene sostituita da quella nuova che ha una capacità di trattamento fino a 75.000 tonnellate. Questo impianto, ha sempre detto il presidente di AISA Giacomo Cherici, non è un inceneritore che triplica perché nel forno dell'impianto della linea di incenerimento non vengono messi rifiuti ma processati gli scarti e tutto quello che proviene dalla raffinazione delle raccolte differenziate. Parliamo adesso invece di lavori pubblici. È terminata quella che ormai è stata denominata la doppia canna del Baldaccio. Siamo ovviamente nella città di Arezzo che cambia appunto il suo traffico. Vediamo. Da ieri è attivo il doppio senso sul nuovo tunnel. È stata aperta anche la corsia che permette di accedere da Pescaiola verso il centro città andando a portare avanti quello che era l'oggetto principale dell'intervento ovvero poter eliminare tutto il passaggio da via Vittorio Veneto e quindi decongestionare il traffico dal centro. È finalmente diventato un vero e proprio nuovo accesso al centro della città, il tunnel del Baldaccio. Sono infatti addirittura ad arrivo i lavori per la realizzazione della doppia canna e nelle ultime ore l'importante novità. Con questo passaggio abbiamo praticamente portato a termine quello che era quasi l'ultima parte di intervento. è rimasto da ultimare l'ultimo tratto di rotatoria lato Baldaccio che dopodiché sarà ultimato definitivamente tutto l'intervento. Sono rimasti praticamente gli ultimi dettagli da portare avanti e già dalla prossima settimana credo che potremo aprire la rotatoria e quindi rendere fruibile tutto l'intervento che come sappiamo bene da tempo sta andando avanti e che ha portato avanti un intervento fondamentale per la viabilità di Arezzo. Prosegue così questa lunga e calda estate di cantieri. Quest'anno grazie ai finanziamenti che l'amministrazione è riuscita ad ottenere soprattutto al finanziamento PNRR ma anche di fondi proprio dell'amministrazione ci siamo attivati con tantissimi cantieri. In questo periodo estivo siamo praticamente al completo. Tutti i cantieri che avevamo in programma sono partiti e con questo anche numerose attività che dobbiamo portare avanti. Un passo fondamentale per Arezzo perché darà una risposta a quelle che erano anche le esigenze dei nostri cittadini. Sicuramente creeremo alcuni disagi sia nella viabilità ma anche nella fruibilità di alcuni spazi però a seguito di questi interventi sicuramente avremo una città più moderna e anche più vivibile. Anche a Arezzo si è costituito il comitato La Via Maestra insieme per la Costituzione. Nella sede provinciale della CGL si sono ritrovati appunto la CGL stessa, Ampi, Arci, Acli, Lega Ambiente, Demos, Libera, Valdarno, Isde Medici per l'Ambiente e il Centro Iniziativa Politica Enrico Berlinguer. La Via Maestra si legge nel comunicato, mette la Costituzione e l'antifascismo al centro della sua attività perché delineano un modello di democrazia e di società che pone alla base della Repubblica il lavoro, l'uguaglianza di tutte le persone, i diritti civili e sociali fondamentali. Ad Arezzo il congresso annuale dei testimoni di Geova, 15.000, le presenze in città. Buona notizia perché in un mondo dove non c'è buone notizie, ne accade di tutti i colori, c'è bisogno, i partecipanti infatti traranno conforto e usciranno incoraggiati da quello che c'è attualmente e quello che accadrà nel futuro. Annunciamo la buona notizia e questo è il tema al centro del congresso annuale dei testimoni di Geova ospitato all'Arezzo Fiere e Congressi. Parlare di speranza, parlare di avere l'opportunità di poter guardare al futuro con tranquillità riguarda tutti, sposa molto bene il nostro desiderio, quello di non legare tanto il nostro futuro alle notizie che sentiamo che purtroppo non sono così tanto positive, a qualcosa invece di certo, qualcosa che già è stato stabilito, cioè il Regno di Dio. Oltre 15.000 i partecipanti arrivati da gran parte della Toscana, ma anche Umbria e Lazio. Il congresso per noi è una festa, è una festa che dura tre giorni, la attendiamo per un anno e durante il corso dell'anno abbiamo altre due occasioni in cui abbiamo delle assemblee però a carattere più locale. Il congresso di zona, come si è visto anche dalle zone coinvolte, coinvolge un numero maggiore di partecipanti, quindi è davvero un appuntamento che aspettiamo con ansia e gioia. Il congresso si è articolato in quattro fine settimana. Nell'ultima tre giorni la proiezione del video racconto la buona notizia secondo Gesù. In principio era la manola. Proprio fatti ad hoc per l'occasione, sono straordinari perché ci portano in quel tempo e più della buona notizia che non diede Gesù non ce n'è altro. Parliamo adesso invece dei nostri amici animali. È una vera e propria emergenza quella che si sta vivendo in questi mesi nell'Aretino tantissime le cucciolate di gattini che ovviamente cercano famiglia. Siamo andati al canile municipale. Loro hanno già il secondo vaccino, hanno dai tre mesi e tre mesi e mezzo e sono tanti, ho tempo, che sono arrivati qui. Più ne abbiamo altri, anche più grandi, però arrivati da poco quindi ancora devono completare tutte le vaccinazioni. Di tutti i colori li abbiamo e sono tutti bellissimi. Rossi, tigrati, bianco e neri, insomma, sono gattini davvero di tutti i colori quelli ospitati al canile di Arezzo in attesa di una famiglia. Sono nati in vari angoli delle campagne aretine, salvati ed accolti dall'EMPA che però in questo momento sta vivendo una vera e propria emergenza a causa dell'elevato numero di mici accolti. Siamo in piena emergenza perché i gattini sono tantissimi. Non abbiamo mai avuto così tanti gattini in un recinto insieme perché noi solitamente i gatti li teniamo in quarantena in delle gabbie dove completano tutta la profilassi vaccinali e poi li mettiamo nel recinto insieme a altre cucciolate perché tanto sono tutti sani, vaccinati, sverminati. Però così tanti insieme, ora al momento sono dodici. Sì, prossima settimana ne entreranno altri tre perché faranno il richiamo del vaccino e quindi sì, cerchiamo tante adozioni. L'appello, come sempre, però è alle adozioni responsabili e consapevoli. C'è la sterilizzazione obbligatoria sia del maschio che della femmina, non importa se uno li tiene in appartamento perché a parte il maschio in appartamento non castrato è in bocca al lupo e comunque è anche un discorso sanitario per il gatto, sta meglio se è castrato e se la femmina è sterilizzata. Si avvia a conclusione la ventesima edizione del Mango Music Fest. Oggi sarà Dargen D'Amico a far ballare il pubblico del gran finale appunto del festival che ha richiamato tante persone al prato di Arezzo. La quinta e ultima serata di questa ventesima edizione dell'evento Aretino arriverà ovviamente fino a notte fonda e sarà come sempre ad ingresso gratuito. E c'è stato il pienone anche per la prima serata delle Summer Nights al Valdichiana Village in questo caso in concerto, anzi un concerto mischiato diciamo anche alle parole con una bella intervista, c'erano i Tiro Mancino. Dopo la prima Summer Nights per l'avvio dei saldi estivi il Valdichiana Village ha ospitato il primo grande concerto in collaborazione con Radio Subasio Music Club. Ospiti di questa estate è Aretina che unisce musica e shopping i Tiro Mancino. Si prosegue con Ermal Meta sabato 20 luglio, ultimo appuntamento con i Comacose, tutti alle 21, ad ingresso gratuito. Quindi sicuramente un'estate ricca di eventi e come amo ricordare sono tutti eventi ad ingresso libero che inizieranno alle 21 e 21 e quindi siamo sicuri di regalare una bella emozione per l'estate di tutti i nostri ospiti. Ecco, come una struttura di questo tipo, che è indubbiamente una meta commerciale per lo shopping, però può creare indotto a livello anche turistico per i territori di riferimento? Il legame con il territorio, in particolare con i borghi che lo caratterizzano, è molto forte. Valdichiana Village va ad ampliare quelli che sono i motivi di scelta del nostro territorio, oltre dagli amanti dell'ambito turistico legato all'ambito culturale, folcloristico, odeno-gastronomico, Valdichiana dà la possibilità di trovare anche a tutti coloro che amano lo shopping e la moda una destinazione che è caratterizzata da 120 negozi dei marchi più importanti in ambito nazionale ed internazionale. Ecco, in questo senso l'Unione fa la forza e noi siamo in grado di migliorare quelle che sono le performance anche del territorio. Ed infine una notizia di sport, l'Arezzo Calcio Femminile ha raggiunto l'accordo con la calciatrice Marika Licco per il rinnovo del contratto fino a giugno 2025. Centrocampista classe 2000 si appresta ad iniziare dunque la sua stagione con la maglia dell'Arezzo Calcio Femminile nell'arco della scorsa stagione con 26 presenze e un gol si è ritagliata un ruolo molto importante nel centrocampo a Maranto dimostrando grande personalità e intelligenza tattica oltre che ottima tecnica. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie per l'attenzione e arrivederci.